Benvenuti all'italiano ed intorni. Oggi scopriamo da dove deriva la parola panico. L'origine della parola panico è da ricercare nella mitologia. Il sostantivo infatti deriva da dio pan e significa uno stato d'animo di paura, di terrore indomabili provocati da un evento inaspettato. Non solo i modi di dire ma anche molti aggettivi e sostantivi della lingua italiana derivano dalla mitologia greca ed è il caso proprio di pan. Come è noto la religione greca era politeista cioè loro credevano nell'esistenza di tantissime divinità. Le divinità si distinguevano a seconda ovviamente degli ambiti di competenza e delle loro caratteristiche. Ad esempio Zeus era il supremo dominatore dei cieli, Afrodite la dea dell'amore, Poseidone il dio del mare e così via. Qui gli dei però non sempre erano belli come Afrodite. Ce n'era uno in particolare dall'aspetto davvero terribile. E stiamo parlando di Pan. Pan aveva il corpo caprino, il viso barbuto, le corna e la coda. Beh quando nacque sua madre fu talmente spaventata dal suo aspetto che non volle crescerlo e lo abbandonò. In realtà nonostante la sua apparenza Pan non era cattivo, anzi gli venivano attribuite anche delle ottime doti nell'Arcadia, cioè il territorio dove lui visse per la maggior parte del tempo la sua vita. Beh insomma era il protettore delle greggi, dei pastori, degli animali selvatici, dei boschi e addirittura si pensa che sia stato lui ad inventare la siringa. Però il suo aspetto come potete immaginare insomma non gli giovò in amore, veniva spesso, anzi veniva sempre rifiutato. Ma Pan non era cattivo, a meno che tu non lo svegliassi o lo disturbassi durante il suo riposo pomeridiano. A quel punto i suoi modi diventavano grezzi, diventava un mostro, urlava talmente tanto che le sue grida spaventavano tutti coloro che gli stavano attorno. Ecco qui, oltretutto faceva anche qualcos'altro, cioè improvvisava queste, diciamo, uscite dagli visitatori del bosco spaventandoli e terrorizzandoli. Ecco da dove deriva la parola Pan. Cioè Pan ha dato poi in seguito il nome a panico, in questo stato ovviamente di terrore indomabile provocato da un evento appunto inaspettato. Alla prossima!